benvenuti buongiorno sono paolo fornaio pasticcere dimostratore per panna elena andiamo subito nel vivo della ricetta versiamo la panna nel nostro classico monta panna andremo a montarla in una consistenza come tutti voi sapete non molto densa ma la crema mussolini così in francese nel frattempo abbiamo sciolto qui cioccolato bianco puro ok è la crema elena sempre pasticcera sciolta al microonde intorno a 26 28 gradi da poter unire alla massa del cioccolato bianco nel frattempo che monta la panna io vado a versare la mia prima calda nel cioccolato vedete anche qua ho creato un semifreddo tipico all'italiana con la crema pasticcera elena cioccolato puro e la panna elena quindi molto veloce in questo caso creeremo un semifreddo a cioccolato bianco quindi salteremo molto con la nostra panna andremo a porre sotto la nostro stampo una piccola gelè a lampone e poi andremo a forzionare dentro i nostri stampi di particolare uniamo anche la nostra gelatina perfetto immobilizziamo il tutto per bene la nostra panna è quasi semi montata non molto ossigenazione per far sì che abbiamo una mousse non tanto areata inseriremo una parte anche qui suggerimento cioccolato bianco quindi abbiamo un gusto molto basico possiamo unirlo sempre o con delle frutte o con delle paste classiche quindi nocciola pistacchio caffè o quant'altro quindi sempre la fantasia vostra si può divertire come vuole come si può spaziare diciamo vedete come si va subito a modellizzare perfettamente grazie alla nostra la nostra panna elena andiamo a versare siamo nei nostri stampi anche questa adesso andremo a portare in abbattimento a meno 18 in un'ora di tempo sarà già pronta per poterla sporzionare decorare secondo la nostra sempre la nostra fantasia bene siamo alla ricetta adesso del semi freddo accioclato bianco e gelati lamponi quindi abbiamo appena sformato dai loro sformati simpac andiamo subito decorarlo con la classica panna 38 decorazione di zucchero ok andiamo a mettere una decorazione di ribes per dare un tocco colore alla fine sempre il nostro bellissimo logo ecco a voi il nostro semi freddo cioccolato bianco e dire di lamponi di panna elena